ciao ragazzi benvenuti sul canale sono le 9 10 del mattino mi sto dirigendo a casa ma ne sto approfittando anche per fare questa videoclip rispondere sempre ai vostri messaggi che a me fa piacere allora io ringrazio mirko per avermi dato questa notizia perché mi era sfuggita su the division 2 danno la stagione io mi ero fermato mi parla la sesta mi era fermato quindi potrei riscaricare the division 2 fammi restante stagioni che mi mancano quindi può anche darsi che ci pensi e lo scarico che mi ricordo che era già bello pesante mi sa che adesso è intorno o superiore ai 100 giga quindi avrei forse un pochettino di problemi di spazio però devo vedere poi sui giochi che porto sul canale ragazzi momentaneamente c'è un gioco che sto tenendo d'occhio che salt and sacrifice io avevo il primo quello salt and century è un 2d source like ho visto ieri 10 minuti di gameplay pubblicato da igne e devo dire che lo hanno migliorato tantissimo l'unica cosa che non so è se c'è la lingua italiana nel 1 c'era spero che ci sia anche nel 2 perché se c'è lo prendo e lo porto sul canale in taccato poi ci faccio una serie sia nell'1 nel 2 perché nell'1 l'avevo interrotta e in taccato le riporto tutte e due insieme poi sto aspettando un altro source like che aveva annunciato che dovrebbe uscire tra giugno o luglio dovrebbe uscire però non mi ricordo il titolo ragazzi che lo scusa l'altro gioco che sto tenendo d'occhio è il resident evil 4 un'altra remake cioè un'altra versione che è stata annunciata però dovrebbe uscire pure in questo periodo però non so esattamente il mese se tutto l'estate o i primi settembre non lo so però lo sto prendendo d'occhio che a me il resident evil piacciono come voi ben sapete ok allora rispondo anche agli altri messaggi che mi sono arrivati sul discorso di Sekiro già ho incominciato a leggere i primi messaggi quindi molto probabilmente lo porto mi ci sto ripieno la mano perché Sekiro è uno tra i giochi più difficili in assoluto quindi sicuramente inizierò con un personaggio basico non userò quello mio a livello massimo ma userò un nuovo personaggio ci rifaremo tutta la storia quindi sicuramente lo riporterò sul canale voi continuate a commentare fatemi sapere ragazzi se ci sono un 5 6 commenti però fatemi sapere io nemmeno mi ci sto allenando ok ragazzi io vi ringrazio come sempre vi chiedo un supporto al canale basta un semplice like o vi volete iscrivere al canale e cliccare sulla campanellina ragazzi adesso io vi saluto che già è un po' tardi e mi dirigo a casa adesso vorrei comprare qualche cornetto da portare a mia madre e facciamo colazione quindi ciao ragazzi alla prossima ciao a tutti andiamo